un saluto a tutti i video ascoltatori d'italia medievale oggi presentiamo un bel volume appena pubblicato da olski dal titolo serlando di fortino dalla cicogna notariate acce e ascesa sociale a firenze nel tardo medioevo di francesco borghero che abbiamo un grande piacere di avere nostro credito ospite ospite perché ci parli di questo volume e quindi come mia abitudine io lascio subito la parola al nostro ospite prego a te buongiorno a tutti i video ascoltatori di italia medievale e ringrazio innanzitutto maurizio calino che la redazione di italia medievale per questo cortese e gradito invito a presentare la mia prima monografia pubblicata poche settimane fa appunto per i tipi della casa editrice olski si tratta fondamentalmente di una ricerca di storia sociale in senso lato di storia socio economica che ha inteso indagare i fenomeni e le dinamiche di crisi cambiamento trasformazione economica sociale e professionale nel tardo medioevo italiano ovvero convenzionalmente nel corso del quattordicesimo e del quindicesimo secolo il focus è la firenze durante la cosiddetta congiuntura del trecento e il caso di studio è quello di una famiglia di notai originaria del contado fiorentino appunto serlando di fortino dalla cicogna e i suoi discendenti ora come è noto agli inizi del trecento firenze era una vera e propria metropoli di oltre centomila abitanti nel pieno di una crescita iniziata nel secolo precedente grazie ai successi del commercio della banca e della manifattura tessile cittadina tra gli anni venti e quaranta del secolo iniziarono però a manifestarsi alcune contraddizioni che avevano caratterizzato questa lunga espansione esplicatesi in almeno tre ambiti fondamentali di crisi crisi alimentare con endemici cicli di carestia crisi economica con la bancarotta delle principali compagnie commerciali fiorentine e infine crisi epidemica e demografica con lo scoppio della peste nera nella primavera del 1348 ora sul piano storiografico la crisi del trecento è un tema che è stato decostruito e problematizzato e al materialismo storico che ha interpretato la crisi come una fase di trasformazione delle strutture economiche dei rapporti di produzione si è affiancato il filone cosiddetto neomaltusiano che ha posto come nodo fondamentale lo squilibrio fra crescita della popolazione da una parte e crescita delle risorse dall'altra a queste interpretazioni io affiancherei il concetto di distruzione creativa nato nel campo della teoria economica negli studi di werner zonbart e joseph schumpeter ripreso recentemente da stefan epstein e ogni processo di transizione cambiamento passerebbe per un parallelo processo di trasformazione e appunto distruzione delle precedenti strutture economiche e sociali fondamentale dunque il concetto al giorno d'oggi forse un po abusato occorre dirlo di resilienza alla distruzione creativa sopravvive chi riesce ad adattarsi per affrontare non subire il cambiamento è questo un tema accolto in italia da storici economici quali gino luzzatto carlo cipolla e che è stato sviluppato per il contesto fiorentino da richard goldway illustre studioso venuto recentemente a mancare che colgo l'occasione di ricordare e come esposto nella introduzione al mio volume nella firenze dei decenni successivi alla peste nera quello che emerge è un intreccio di percorsi individuali e familiari di arricchimento e ascesa sociale così come di impoverimento e perdita di status un intreccio di fortuna e abilità dove la redistribuzione della ricchezza e le vicende personali hanno determinato i destini di una persona o di intere famiglie e di tutto ciò un caso di studio emblematico è rappresentato appunto dalle vicende del notaio serlando di fortino dalla cicogna ora occorre premettere il notariato in area fiorentina come nel resto dell'italia basso medievale era una professione dotata di significative potenzialità sociali e l'efficacia del notariato come canale di ascesa sociale si lega soprattutto a potenzialità fondamentalmente relazionali nel momento in cui un notaio si trovava a interagire con ambienti che aprivano opportunità e occasioni di incontro e arricchimento del proprio capitale sociale e le conseguenze della peste nera e delle successive epidemie sull'esercizio del notariato in area fiorentina furono in questo senso anche in questo caso almeno tre la prima fu numerica correlata alle dinamiche coeve demografiche tra la metà del 300 e gli inizi del 400 il numero dei notari di area fiorentina si dimezzò in secondo luogo alcune trasformazioni ecco delle pratiche sociali della scrittura se così vogliamo definirle fecero sì che un insieme di atti notarili soprattutto in ambito mercantile ecco fossero sostituiti da scritture private e in terzo luogo il fortissimo calo demografico appunto ridusse le stesse possibilità professionali per i notari e in questo contesto ecco che divenne fondamentale la diversificazione professionale l'affiliazione presso enti e istituzioni e sovente l'inurbamento e di tutto ciò la carriera del nostro serlando di fortino rappresenta un caso di studio a mio avviso a a suo modo esemplare serlando di fortino è un notaio originario appunto della cicogna toponimo un po buffo che rimanda un piccolo castello del valdario superiore situato in diocesi di arezzo alla metà del 300 inserito nel contado di firenze serlando apparteneva a una famiglia in seguito individuata col cognome orlandini distinta in due rami e della quale vari membri erano appunto attivi nel notariato una famiglia socialmente ascrivibile alla cosiddetta borghesia di contado un ceto sociale approfondito dalla storiografia e ben presente nei borghi e nei centri minori dell'area fiorentina composto da appunto giuristi nottai non che artigiani bottegai piccoli e medi uomini d'affari il cui prestigio presso la comunità si fondava soprattutto sul consolidamento economico e patrimoniale basato a sua volta sulla proprietà fondiaria e immobiliare e nell'ottica della diversificazione delle attività l'avviamento di uno o più figli all'esercizio del notariato poteva rappresentare un anche consapevole canale di consolidamento e ascesa sociale ora come espongo nei primi capitoli del mio volume non abbiamo informazioni precise sulla nascita e sulla formazione di serlando di fortino così come non abbiamo dati ad esempio sulla sua immatricolazione alla corporazione notarile di firenze gran parte delle notizie inerenti alla sua attività provengono infatti dai suoi stessi registri di imbreviature i registri notarili 11 protocolli e un registro giudiziario più una cinquantina di atti redatti in extenso termine tecnico su pergamena sciolta documenti che nel complesso coprono un arco di circa 30 anni e ciò che sappiamo è che tra il 1345 il 1348 sostanzialmente al principio della sua carriera l'ando di fortirono era uno dei tanti notari di contado itineranti presso i borghi castelli mercati del val d'arno di sopra in questi anni appunto a ridosso della peste serlando rogo diverse centinaia di atti in favore di privati comunità rurali parocchie confraternite e ospedali del contado alto val d'arnese un notaio dunque ben accreditato presso privati e istituzioni e in questi anni serlando operò ad esempio anche come procuratore e ricopri la carica di ufficiale presso alcune comunità rurali non bisogna infatti dimenticare che i notari di contado erano delle figure di riferimento per le comunità locali li potremmo definire dei notabili svolgevano fondamentali ruoli di intermediazione anche in virtù delle vaste reti di relazioni intessute ecco che la prima vera svolta professionale e sociale di serlando di fortino è rappresentata proprio dalla peste nera che si abbatté su firenze e sul suo contado nella prima vera estate del 1348 il nostro notaio durante l'epidemia perse il padre per dire e me e i suoi registri stessi la sua attività testimonia l'andamento del contagio calano i ritmi di lavoro aumentano gli atti di donazione e comprensibilmente i testamenti però come spongo nel terzo capitolo del mio volume passata l'epidemia nel settembre del 1348 il nostro serlando di fortino fu assunto al notaio e scriva dell'abate generale del monastero di vallombrosa situato come noto sul vicino massiccio preapenninico del prato magno vallombrosa era la casa madre penso sia noto di uno dei principali ordini benedettini riformati dell'italia medievale i vallombrosa di valombrosa e a seguito della peste nera la morte o la cessazione dell'attività di alcuni dei notai che già operavano per il monastero prese necessaria l'assunzione di nuovi professionisti e tra essi appunto il nostro serlando di fortino un cambiamento professionale che permise al nostro notaio di abbandonare i borghi e i mercati rurali proprio quando appunto a causa dell'emergenza economica e sanitaria questi ultimi iniziarono a perdere progressivamente la loro rilevanza demografica economica e sociale serlando di fortino entrò in questo modo in contatto con importanti figure del monachesimo vallombrosano trecentesco e rimase al servizio dell'abate generale di vallombrosa per un quindicennio il nostro notaio seguiva l'abate nei suoi spostamenti fra il prattomagno e l'area fiorentina principalmente presso alcuni palazzi abbaziali situati nel suburbio e presso le mura orientali di firenze e a questo allargamento della mobilità geografica si affianca un parallelo allargamento della potremmo chiamarla geografia della documentazione i rogiti gli atti redatti da serlando di fortino riguardano infatti in questi anni i principali monasteri vallombrosani dell'italia centro settentrionale nonché della della sardegna dove l'ordine di valombrosa aveva alcuni istituti e proprio a seguito dell'abate generale di valombrosa nei primi anni cinquanta del del trecento serlando si in urbò a firenze e dunque alle dinamiche di mobilità sociale si affiancano delle dinamiche di mobilità geografica un'acquisizione della cittadinanza da parte del nostro notaio che passò anche attraverso dei legami parentali anche di un certo prestigio a firenze serlando sposò monna nicolosa dei buoni aiuti una nipote del noto cronista marchione di coppo stefani e fatto rilevante attraverso questo matrimonio il nostro notaio si sarebbe imparentato inoltre con gli albizi un legame parentale che avrà peraltro una grande importanza per i discendenti di serlando di fortino e il nostro notaio in questi anni allargò la propria attività inoltre ad altre istituzioni religiose in particolare serlando iniziò a operare come scrivano presso alcuni tribunali ecclesiastici di cosiddetti giudici delegati e nuovamente in questo contesto come esposto nel quarto capitolo del volume si colloca una seconda e un'altra volta fondamentale svolta professionale di serlando di fortino protagonista del di questo volume una svolta coincidente col ritorno della peste nella primavera estate del 1363 come noto l'epidemia avevano assunto una cadenza appunto ricorrente ecco che dopo la peste nera la peste ritorna a firenze negli anni 60 nei primi anni 60 del del 300 in questi cicli di endemicità del morbo e serlando appunto che nel 1348 lo abbiamo detto aveva perso il padre a questa tornata avrebbe invece perso perso il fratello ma non di meno nonostante queste ripercussioni in ambito familiare al termine dell'epidemia il nostro notaio raggiunse quello che io definirei il culmine del proprio successo professionale sopravvissuto un'altra volta al morbo il nostro notaio divenne scriva del vescovo e della curia è ovvero del tribunale episcopale di firenze un prestigio raggiunto presso gli ambienti della chiesa fiorentina e complice sicuramente il lungo operato per l'abate di vallombrosa che fu certamente un fattore professionale determinante e allo stesso tempo occorre rimarcare alcuni notai appunto che operavano presso l'episcopio fiorentino avevano cessato per tutta una serie di motivi la propria la propria attività il nostro notaio fu attivo dunque per la curia vescovile di firenze per circa tredici anni e la documentazione che avrebbe redatto è appunto trasversale rispetto agli ambiti del ministero del vescovo e dalla gestione patrimoniale alla giustizia vescovile oggetto di recenti studi da parte di lorenzo tanzini le relazioni con il clero e le autorità secolari e presso la curia vescovile nuovamente serlando ebbe l'opportunità di entrare in contatto con importanti giuristi e uomini politici della firenze trecentesca dunque nuovamente una occasione di allargamento della propria rete sociale e professionale che sarebbe stata alla base della fortuna dei discendenti di serlando di fortino sui quali si sofferma in ultimo il quinto capitolo del mio volume serlando di fortino morì alla metà degli anni settanta del trecento ed ebbe diversi figli alcuni dei quali appunto sulle sue orme si inserirono nell'ambito del notariato mentre altri furono attivi con fortune ma anche con sfortune occorre rimarcare nella manifattura tessile e nel commercio dal patroninico di serlando l'ando di fortino appunto fautore della scelta familiare ecco i discendenti avrebbero acquisito il cognome fortini e diversificando dunque attività e interessi questi ultimi conseguirono un rilevante status economico come si evince anche dagli estimi e dai catasti del primo trentennio del quattrocento e i fortini acquisirono inoltre un ruolo influente all'interno del ceto politico fiorentino che io ho appunto inteso analizzare nel capitolo finale del mio volume in particolare sicuramente da citare l'esponente maggiore della famiglia che fu ser benedetto figlio appunto di serlando di fortino affermato notaio e ser benedetto fortini che nel 1374 pensate fu nominato coadiutore del cancelliere della repubblica un incarico che in precedenza aveva ricoperto l'illustre coluccio salutati e proprio grazie alla sua cultura ai doti professionali ser benedetto figlio di serlando di fortino principiò una brillante carriera che sarebbe culminata nel 1406 quando proprio alla morte del salutati assunse lui stesso seppur per pochi mesi la carica di cancelliere della repubblica di firenze e sulla scia di ser benedetto si sarebbero collocati un altro suo fratello paolo fortini anche lui cancelliere della repubblica nonché il figlio di ser benedetto fortini bartolomeo bartolomeo fortini figura in stretto legame con importanti esponenti dell'umanesimo civile fiorentino con le cerchie dell'accademia platonica con lo stesso marsilio ficino e con gli ambienti dell'osservanza domenicana volendo citare dante potremmo dire la gente nuova e i subiti guadagni così forse qualche decennio prima il sommo poeta avrebbe appellato lando di fortino e i suoi discendenti famiglia appunto di recente immigrazione dal contado emerse nella vita economica e politica della città e destinate ad assumere un ruolo centrale nella società fiorentina del 3400 l'emigrazione dalla campagna come abbiamo visto poteva rappresentare una svolta professionale alla base di fortunati percorsi di ascesa sociale soprattutto nel caso che migrava fosse in possesso del capitale economico professionale e culturale per inserirsi nella giusta rete sociale un caso di studio dunque il mio inerente alle dinamiche di mobilità sociale e ascesa professionale nella firenze del tardo medioevo e che d'altro canto come rilevato in sede di conclusioni del mio libro si lega a una serie di altri casi di studio pertinenti alla toscana nonché alla stessa area fiorentina che permettono di allargare e consolidare le riflessioni sui notai e appunto la cosiddetta gente nuova in urbatasi a firenze a partire dalla seconda metà del 300 nonché sulle convergenze ma anche divergenze nelle fortune politiche sociali ed economiche di questi individui e di queste famiglie tra quattordicesimo e quindicesimo secolo in sede di chiusura di questa mia presentazione vorrei rilevare come sotto il punto di vista metodologico gli studi recenti sulla mobilità sociale hanno rivalutato la potenzialità di un approccio di tipo qualitativo basato appunto su singoli casi di studio quali biografie personali e familiari in particolare sul rapporto fra notariato e mobilità sociale nel tardo medioevo la relativa abbondanza di fonti occorre rilevarlo che contraddistingue determinati contesti quali quello fiorentino ecco consente come però di aver messo in luce di ricostruire dei profili significativi utili non di meno ad esumere dei modelli relativi alle carriere e alle dinamiche di ascesa sociale pur senza avere un fine nomotetico potremmo dire il caso di studio dunque come consapevole e programmatica metodologia di ricerca questo lo vorrei mettere in rilievo il caso di studio per la comprensione di ampie problematiche del passato ma auspicabilmente anche del presente e chiudo a questo proposito con una citazione dello storico di un grande storico roberto sabatino lopez una citazione che a sua volta apre il mio volume come auspicabile auspicata anche da parte mia nota epistemologica e metodologica cito ai miei studenti raccomando di fare macro storia con micro storia macro storia con micro storia per materia prima cioè idee larghe e suggestive esempi e modelli stretti e precisi credo soltanto chiude lopez credo soltanto alla storia totale e qui chiudo anche io e vi ringrazio per l'attenzione molto interessante del resto è non è così frequente che si possa ricostruire la vita di una figura del periodo medievale da dall'inurbamento fino alla fine addirittura fino alla discendenza no quindi è un'occasione importante anche per comprendere quali sono i meccanismi interpersonali quali sono i percorsi no le figure di contorno che servono a favorire questa ascesa è davvero un'opera preziosa e importante quindi io come mia abitudine ricordo il titolo perché le persone possano andare ad acquistare e possano beneficiare di tutte queste informazioni e il titolo è serlando di fortino dalla cicogna notariato e ascesa sociale a firenze nel tardo medioevo appena pubblicato da olski e di francesco borghero che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro gradito ospite io come sempre ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito grazie ancora io ringrazio te maurizio e alla prossima sicuramente spero che ce ne siano tante altre a tutti voi invece ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove trovate oltre a questa tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi arrivederci e grazie ancora un saluto